Ma sono cose veramente da matti perché... Il Presidente del Consiglio ha fatto un post su una trasmissione... Sì, no, ma insomma io dico al Presidente del Consiglio ho il sospetto che tu abbia una visione patriarcale e lei mi risponde e dice no, io sono femmina, sono una donna, mia mamma è una donna, mia nonna è una donna, mia zia è una donna e faccio la foto è come se a me dicessero sei un comunista no, ho uno zio prete il punto è che non accettano le critiche cioè hanno la pelle sottile fanno le vittime su qualsiasi osservazione ma insomma se non accetti le critiche non far quel mestiere lì ti chiudi in casa con la famiglia e la tua fazione sa cos'è però? Non è che non accettano le critiche secondo me sono furbi cioè le utilizzano guardi, innanzitutto c'è una lunga tradizione guardate questo cartello il 10 non è certo la prima Giorgia Meloni abbiamo avuto Meloni aveva già detto Saviana hai fatto milioni sputtanando la tua città Salvini aveva detto Bellicià a Fazio e Tizzetto Renzi Travaglia è un pregiudicato Berlusconi e avremo ospite a breve anche Michele Santoro ricorderemo i bei tempi diciamo in cui sceglieva allora si inserisce è una tattica questa è una strategia o è proprio un atto emotivo vede la televisione e dice ora scrivo come fanno no ma semplicemente il vittimismo è l'altro lato dell'aggressività punto è sempre stato così è un meccanismo così che è psicologico ma qui è diventato è politico sostanzialmente è questa cosa cioè a me facevo una riforma di cui nessuno adesso tornerebbe indietro mi inseguivano col pullman fino al paesello ma non ho mai sentito lamentarmi ma io non mi sono mai lamentato perché tu devi se governi devi accettare le critiche anche quelle che ti sembrano ingiuste perché non governi solo i tuoi governi un paese e rispetti tutti c'è un altro aspetto però da una parte c'è il vittimismo e dall'altra la personalizzazione guardi cosa ha detto il ministro Lollo Brigida a cartello 9 dice beh la storia familiare di Giorgia dimostra il contrario mentre nella trasmissione ma non solo in quella anche in questa a breve ci si interrogerà qual è il ruolo della destra nella cultura definita il patriarcato da alcuni e qual è il ruolo della sinistra e Lollo Brigida alla sposta dice voi non state attaccando la destra state attaccando Giorgia Meloni e Giorgia io sono una donna sono cristiana sono madre ha una tradizione di donne invece il dubbio veniva guardate la tradizione di destra e patriarcato nella breve raccolta che ci fa capire perché il dubbio che il patriarcato sia trovi casa a destra rimane guardate l'architrave della famiglia sono le donne in quanto madre il vero obiettivo non dichiarato è la scomparsa della donna in quanto madre ma perché ridete è importante prendete nota donne di come si fa la battaglia si fa cuocere mi ricordo a casa mia quando ero bambino mi svegliavo e in cucina la donna Angelina si chiamava aveva già messo la padella con sto pomodoro il dubbio viene e invece dice voi accusate Giorgia che invece è la prima premier se uno pensa che una donna è donna in quanto madre ha un concetto patriarcale punto e basta non c'è discussione e quindi lo brizzia dica quel che vuole assistare la storia della famiglia del meloni eccetera che purtroppo per lei ha avuto a che fare con dei maschi che non brillavano per diciamo così comprensione della dignità femminile quindi lo l'obbligi da lasci stare che così lo possiamo stare anche noi va bene c'è un altro aspetto va in subito va un nuovo pacchetto sicurezza perché comunque il clima l'abbiamo detto non ne parleremo e anche va un nuovo DDL proprio sulla questione dei femminicidi e entrambi si basano sulle pene sulle pene da dare non sulla prevenzione là si spacca di nuovo destra e sinistra guardi cartello 19 cosa succede il nuovo pacchetto sicurezza non erano battute quelle di Luca e Paolo è proprio così allora si occupa della detenzione delle donne incinte delle armi senza licenza ai poliziotti che sono fuori servizio le possono comprare senza fare nuovi test nasce reato specifico della rivolta in carcere il blocco stradale cioè quelli che disturbano sul raccordo sulle strade per l'ambiente possono essere arrestati e aumentano le pene per lo sfruttamento dell'accattonaggio allora c'è una visione politica dietro queste dietro l'intervenire con delle pene maggiori o cosa c'è? insomma non è una sorpresa hanno cominciato minacciando sei anni dicasi sei anni per uno che fa un rev illegale intanto hanno fatto 17 condoni per l'evasione fiscale io credo che questa è la destra è la destra è la destra demagogica non che non ci siano problemi lì ho capito c'è il blocco stradale ti dà fastidio dagli un multone vedi come fare ma non andarmi a riempire le carceri ma quello no perché non è che sono tantissimi di questo passo non è che tutti incontrano di questo passo e la strada è segnata la fine della strada fucileremo i barboni e daremo il cavalierato del lavoro agli evasori fiscali questa è la strada della destra sarà quella lì se lo vuoi questo è se questa è la strada della destra bisogna capire se lo è perché si trovano bene su quella strada o perché non ne possono prendere altre passiamo all'economia ci dice perché oggi i titoli erano un po' di ogni tipo promossi ma non tanto rinviati a settembre dalla Commissione Europea per la manovra bocciati qualcuno dice bocciati perché dice sono i due fondamentali praticamente criticano il fatto che il cuneo fiscale sia stato abbassato prendendo soldi in prestito e che tutta la manovra sia stata fatta sostanzialmente due terzi in deficit e il debito in questo modo non è stato frenato cosa dice la Commissione Europea dei nostri conti e della nostra manovra ma loro sono preoccupati come dovremmo essere anche noi di un paio di fatti il primo che questa manovra è largamente in deficit e quindi la traiettoria del deficit e del debito ha su un punto interrogativo molto serio secondo i provvedimenti fondamentali tipo quello del cuneo o altre misure fiscali hanno durato un anno nessuno pensa ma come fai poi a tirarli via adesso per essere chiaro però a quel punto devi trovare una barcata di soldi vai ancora in deficit c'è un punto interrogativo cioè li abbiamo trovati per un anno è tutto fatto per un anno è una finanziaria veramente precaria no? e senza uno straccio di idea però il punto di fondo che forse anche questo nei commentatori o negli osservatori c'è ma non viene espresso è l'agenda cioè fra l'agenda del paese e l'agenda del governo non c'è comunicazione allora qual è il problema del paese adesso? La crescita è sullo zero la produzione industriale si ferma i redditi e i salari sono bassi la sanità barcolla la povertà assoluta cresce di un'altra milionata l'agenda del governo è mi maneggio la costituzione col premierato invento che risolvo le migranti con l'Albania metto le dita negli occhi ai sindacati faccio queste cose qui sicurezza ragazzi qui sarà ora che ci occupiamo dell'agenda del paese perché non è un problema della commissione europea che può fregarcene fin lì è un problema nostro ma come è possibile che se si alzano le tasse ed è più difficile andare in pensione la critica sia che non ci sono soldi non dovrebbero averli trovati in questo mondo cioè come si fa ad essere rigoristi ma anche avere i conti che fanno che fanno la cosa io sostengo che quello che è il guaio di questa destra e sarà il guaio dell'Italia io su questo non sono ottimista cioè quando tu politicamente non hai nelle corde un messaggio di verità al paese hai nelle corde solo la propaganda non riesci a dire quel che andrebbe detto ragazzi adesso è finita la storia che i soldi non erano un problema adesso sono un problema se noi non risolleviamo i consumi sui redditi sui salari noi la ripresa non la incroceremo mai allora bisogna prenderli questi soldi dove ragazzi io non lo so ma si sono cacciati sugli est profitti è venuta fuori una farsa colossale ma cosa ci voleva ubbedendo al dettato costituzionale che pretende quando fai misure di solidarietà eccetera pretende eguaglianza pretende ragionevolezza tu chiedi un contributo straordinario a tutti i profitti e esenti i profitti fino a una certa soglia in modo da isolare tutti gli extra e magari telefoni prima alle banche così neanche ti fanno l'opposizione adesso non si fa male nessuno ma cominci a mettere un po' di soldi a soccorso di che ha sofferto più l'inflazione rianimi un pochino i consumi e l'economia non va bene questo inventati qualcos'altro senta Berzani però lei dice le agende del paese può essere che invece al paese piacciono anche queste battaglie identitarie valoriali della destra io le faccio vedere lei ha sempre detto guardate vi avverto c'è la mucca in corridoio poi lei ha detto la mucca è arrivata perché è arrivata alla destra nel mondo e forse non era quella la mucca c'è una mucca ancora più grande guardi in Argentina chi ha vinto le presidenziali si chiama Miley e così si presenta un dibattito tv come podemos pedir che termine il murmullo detras di camera perché è molto difficile parlare con tanta gente parlando sono temas molto delicati e vedo che non cessano di parlare a pesar di mis cambiamenti di tono così come hai un salame o tre salame opinando desde una computadora sai che mentre che eso mirano alla signorita por internet io sto e nel medio di sus sábanas questo si è presentato presumo ubriaco e la gente l'ha votato guarda quando questa è una mucca è una mucca però zopa secondo me perché lo sa che forse torna pure Trump forse torna pure Trump eh vabbè ma questa nasce gli ha mandato già i complimenti anche Salvini l'ha salutato tutti io lo spiego così lì che quando hai il 140% di inflazione e non sai dove sbattere la testa ti affidi hai visto mai ecco e io credo che sia questo stato la cosa purtroppo credo che quest'uomo abbia un paio di idee in testa che se mai applicate eh sarà un problema enorme toccherà veramente andare in soccorso in quel paese lì ora idee demenziali torniamo dal punto da dove siamo partiti tutto quello che abbiamo detto in un mondo in cui ci sono almeno due conflitti devastanti quello in Medio Oriente che ora abbiamo iniziato con quello quello in Ucraina dentro l'Europa è una situazione comunque sconvolgente dal punto di vista geopolitico ne parleremo dopo anche con il direttore di Repubblica è arrivato il giudizio sul nostro debito Moody's che è quella più attesa ce ne sono state già anche altre è l'agenzia che dice guardate conviene prestate i soldi a questo paese oppure non li prestate da un consiglio non è obbligatorio e noi che siamo a un passo dal consiglio non prestate i soldi a questo paese cioè il debito dell'Italia è spazzatura ci siamo fermati al gradino prima spazzatura ci hanno confermato che non siamo ancora spazzatura e hanno detto guardate attenzione perché ci sta il PNRR che ha maggiori difficoltà il previsto nei prossimi anni saranno necessari dei tagli quindi fare cose contro il consenso degli elettori per stabilizzare il debito e dovranno ancora tagliare la spesa pensionistica e al governo c'è gente che dice in cinque anni noi togliamo la fornero questa situazione internazionale quanto ci permette di stare tranquilli ci sarà un giorno che la gente dirà i soldi all'Italia non li presto oppure visto che siamo ormai tutti un blocco e su quel fronte Giorgia Meloni è stata chiara io sto con la Nato sto con l'Europa ad ora è stata chiara quanto ci protegge questa situazione drammatica intorno a noi la situazione così di guerre attorno a noi è anche una cintura di sicurezza attorno ai governi perché quando le cose girano in quel modo nessuno ha interesse a creare dei turbamenti e delle stabilizzazioni credo anche le agenzie di rating secondo me ragionano un po' così insomma il tema è non cerchiamoci il freddo nel letto come si diceva se succede succede ma non cerchiamocelo noi non cerchiamocelo noi non cerchiamocelo noi ok